Peugeot 5008 è la monovolume compatta a cinque o sette posti che rafforza la presenza del leone nel mercato dei veicoli a vocazione familiare. La linea aerodinamica e filante della 5008 richiama quella dei treni ad alta velocità. La superficie vetrata sembra circondare tutto il veicolo senza soluzione di continuità. Il grande tetto panoramico Ciel appare come il prolungamento dell'ampio parabrezza. Spaziosità e polivalenza sono i punti di forza della 5008. Lo spazio è generoso per tutte le file dei sedili compresa la terza. La modularità è garantita dai sedili della seconda fila singoli e facilmente ripiegabili. Quelli della terza fila si ripiegano singolarmente a scomparsa nel pianale. Il volume del bagagliaio con tutti i sedili ripiegati supera i 2500 litri. In movimento Peugeot 5008 è una vera stradista. Confort e prestazioni sono parametri che si mantengono ai massimi livelli sempre con un occhio di riguardo ai consumi qualunque sia il motore scelto tra i benzina da 120 e 156 cavalli o gli HDI con cambio manuale, robotizzato o automatico da 115 a 163 cavalli. Alla voce e sicurezza Peugeot 5008 presenta diversi dispositivi di serie o in opzione. ESP, freno di stazionamento elettrico, indicatore di perdita a pressione pneumatici, sono alcuni dei dispositivi tecnologici che troviamo già di serie. Possiamo poi avere a disposizione il Distance Alert, dispositivo non intrusivo che grazie a un radar aiuta il guidatore a rispettare la distanza di sicurezza con informazioni trasmesse sullo schermo dell'head-up display. E poi c'è l'Advanced Parking System che facilita le manovre di parcheggio valutando la dimensione dello spazio, visualizzandolo sullo schermo multifunzione da 7 pollici. La Peugeot 5008 è anche dotata dell'Intelligent Traction Control, sistema antipattinamento per le situazioni di scarsa aderenza come neve o fango. Per completare la dotazione di sicurezza, la Peugeot 5008 offre l'airbag in tutte le file dei sedili, compresi quelli della terza fila. Linea slanciata, 5 o 7 posti, capacità di carico, tecnologia al passo con i tempi, piacere di guida, motorizzazioni parche nei consumi e rispettose dell'ambiente. Così, Peugeot 5008 risponde alle esigenze del cliente moderno. E' lo bassa di Godinino